Sono uno spettatore e vengo soprattutto gli spettacoli teatrali, quelli mi interessano particolarmente. Entrare nel teatro è già un luogo raccolto in cui si sa che si dovrà sentire, vivere e rivivere delle emozioni. Poi quando sento attori o vedo attori che recitano, il mio animo si esplode perché le emozioni che sanno trasmettere sono eccezionali. La città ha aspettato parecchio per averne uno bello così e dovrebbe essere secondo me un luogo in cui le persone riescono a ritrovarsi e quindi abbandonando anche tutti i problemi sociali e i problemi che possono avere di lavoro e rivivere delle esperienze che li lega, che li unisce e quindi si sentono ancora più partecipi della vita della città. Avvenire a teatro è veramente fondamentale per tutte le persone, dovrebbero essere proprio tutte. Io sono Mario Donadello.